E' entrato E per... E per... E per... Ma qua abbia dovuto mettere un cuscino Io e Danny ci siamo impostori ragazzi E io voto Danny E io voto Gio E io voto Danny E io voto Danny Ci da stare in stanza una persona sola Eh si Ah ok, qua c'è questa persona Salve Salve Fallo Fallo Che succede qua? Scusate? Scusate Assolutamente quello che sta succedendo Dove cazzo? Ok Oddio come funziona adesso che c'era un emergenza in corso? Eh quella emergenza avalza Ok Il nucleatore non funziona però è morto Ok Se in caso è tipo le luci spente continua Le luci spente si però le emergenze Ragazzi io so dire che Che Dennis Non era con me E basta che so dire Potreste essere il suo killer però Si è passato eh Io ho visto passare Elia E sta passando avanti Basta Sono già stato il killer tutta la sera No Dennis sicuramente non è perché era con me E lì l'ho visto pura però ho visto dopo Quindi non ti saprei dire se c'entrava niente Io ho visto Giotto solo in una stanza e poi tu che vai lì E io sono un po' morto E io sono un po' morto Secondo me Giotto Ma dov'era il cazzo? La bossa finale dell'impostore si è suicidato Dov'era il cazzo? Non è lui Sì sì Bastardi che mi votate Siamo stati insieme per venti di copi Che il giorno assolutamente succedesse Quando vedrete il mio cadavere congelarsi nel ghiaccio Vedrete conto di aver fatto un errore Tutti i punti moriti dall'assassino Ah ma ha giocato ancora? Ok Si devi farlo Il round diciamo di prima e basta Ok E' un fantasma E non mi si muove Ah se vedete la gente deve trasportarsi è perché l'alba quindi Ancora che hai letto la camera non funziona ma E' che lo dici perchè hai usato una delle ventole C'è il mio cagnolino Almeno rimedi se vai dentro le ventole No fanculo Ho fatto io tranquilli amici Basta Ciao 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 Ah posso attraversare le pareti ok Beh sì sì Ma come ero accorto Dove andi più veloce Uh Oh Hai ridotto il tempo delle tasche? Ah ma i nomi delle tasche sono scritti su No Sì sì Adesso ammazza Ah Ah È vero quando sei in una stanza ha prescritto come si chiama Tipo Znake senti qua c'è scritto Navigation Sword Ah ok Tipo Dark Souls Sì Sì No perchè non è così Certo che ci ho scritto il no Ma posso darne lo spazio? Finalmente ho scoperto la sua Dalla Sì Certo che ho scoperto Eh è che Pesco Che amici, io non voglio rimanere da solo Cerco qualcuno da pedinare che ho paura Oh, quanto rispite? Io entro sempre nel 60, il più problema è già Chi mancano delle tasche? No, 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 perché? No Hai lasciato vedere delle camere Sì, non lo posso attestare Non so nulla però, non ho visto Allora, Elia e Leo stavano con me Quindi sono tre impostori Ho visto Bussetti in giro, non so se stavi facendo qualcosa Bussetti con quel nome non mi convince Stavo facendo la testa Stavo parlando comunque, questo è sospetto Cosa suggerite? Io mi fate parlare, sto facendo la tasca dei fili E poi te è solo me, mi hai pure visto che stavo andando nell'elettrica Eh sì, ma prima l'ho visto Io vedo molte cose ma non capisco molto Io ho fatto tutto so perché volo a vista nella vicina Io non so proprio quella Non è grandissima prova Cosa? Non sono dopo me Il gay Che l'ho imbustato fu Ma non sono io, cretini No, 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 no Pergogna 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 Bussetti, ho smottato l'imposte Ma adesso che finisce con le sue? Che succede con le sue tasche non finite? Ah, è vero, le continua a far da morto Io di nuovo, madonna, che stanzia di dire Ok, serve un second user Dennis, guarda la chat di morto Che cazzo? No Qualcuno ha chiuso le porte Eh, mi è successo pure a me un hit Era chiusa la sicurezza Stai vincendo Stai a stare con voi Tutti voi, non uno solo No Dennis, ma che cazzo stai facendo? Che cazzo? Non mi preoccupare Ma era ovvio Smaggia Io l'avevo votato Io l'avevo votato Io l'avevo votato No, io ho votato tutto a Leo Io avvicinavo con gli altri Per dire che Leo stava con me